La mia più grande passione, ho avuto la fortuna che poi è diventato un lavoro, che è quella di giocare a calcio, perché da quando sono piccolino, che sia con i miei fratelli che con gli amici, nei tempi liberi abbiamo quasi sempre fatto questo, quindi ho avuto questa fortuna. Però poi mi piace tanto anche, sono uno sportivo in generale, quindi mi piace tanto giocare a tennis quando ho tempo, nei pochi spazi liberi, ogni tanto leggere qualche libro, ascoltare la musica, insomma le passioni di tutti i giovani della mia età. Negli ultimi tempi sta crescendo un pochino e è mio figlio, prima non capiva tanto, non riusciva a parlare, quindi non era lui, però adesso mi parla al telefono, anche se ancora è piccolino, però mi saluta, mi fa l'in bocca al lupo, insomma per me è una carica in più. Ne ho due di figli, il secondo però è talmente piccolo che ancora non riesce nemmeno a tenere il telefono in mano. Mi piace tanto la pasta, fatta in tanti modi, è importante che sia pasta, un bel piatto di pasta quando rientro, soprattutto le trasferte estere, è la cosa che mi manca di più, quindi è quello che preferisco. Grazie. 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 Grazie.